Siamo venuti a far visita alla sassa di calcio latte dolce ai nostri microfoni, quelli di Sardegna DS, una vecchia conoscenza ormai di queste videocamere. Simone Patacchiola, una stagione davvero incredibile che dà il seguito a quella già esplettata lo scorso anno. E' mancato quel quid, quest'anno mi pare però che la squadra abbia ripreso sulle tracce dello scorso anno con un qualcosa in più, la consapevolezza della vostra forza. Simone? Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo fatto dei risultati importanti e quest'anno, come hai detto tu, siamo ripartiti con la stessa mentalità, con la stessa forza. La società non ha cambiato molto, si sono aggiunti pedine importanti a questo scacchiere per dare un seguito a quello che abbiamo già costruito. Per adesso stiamo dimostrando di viaggiare sulla stessa linea d'onda dell'anno scorso e dobbiamo continuare comunque sia a lavorare duro e a fare tutto quello che il mister ci chiede. La falsa liga dicevamo era quella dello scorso anno, però con la consapevolezza, l'abbiamo detto anche in prefazione, della forza. Una forza che deriva solo e esclusivamente dal tanto lavoro che voi mettete durante la settimana per preparare le varie partite, perché i risultati non arrivano mai per caso. No, quello mai. La società, il mister mette a disposizione tutti i mezzi per poterci allenare bene e noi li stiamo sfruttando. Seguiamo passo dopo passo tutte le direttive dello staff e niente, le migliori cose vengono sul campo. Simone, con sabato la trasferta che vi avrà protagonista in quel di Lanusei c'è una sorta RMA che di quello che è successo scorso anno, ricordiamo tutti quella sorta di finalina giocata in condizioni incredibili di maltempo, c'era la nebbia, insomma tante situazioni. Quanto è rimasto di scorie per quanto riguarda appunto quel risultato che poi non vi aveva riso? Beh, diciamo che l'anno scorso abbiamo affrontato due, tre, quattro volte Lanusei, diciamo che non è andata benissimo durante il corso del campionato. L'ultima è stata proprio l'emblema che abbiamo perso una finale playoff, però ora non pensiamo a quello, pensiamo sempre a noi stessi, a prepararla nei migliori dei modi come facciamo ogni settimana. Aspettiamo sabato per affrontarli e vediamo come andrà a finire. Un'ultima cosa, un campionato, quello di Serie D, che è arrivato praticamente alla giornata fatidica per capire quali sono le forze in campo. Mi pare di poter dire che comunque molte squadre ancora sono velate, nel senso che non c'è una spaccatura netta per quanto riguarda la leadership. Voi siete a pieno merito lì davanti, però ci sono per esempio lo Stiamara, che sarà il nostro ospite fra 15 giorni, e tante altre formazioni che si stanno distinguendo. Sì, il campionato di Serie D da 3-4 anni a questa parte è un campionato molto difficile. Il campionato si gioca sempre all'ultima giornata, alle ultime giornate, come l'anno scorso tra l'Anusea e l'Avellino, addirittura in uno spareggio. Noi pensiamo sempre a fare il meglio e a dare il meglio. Poi ci sono squadre importanti come l'Ostia Mare, la Turris, che si stanno giocando anche loro il campionato. Ma noi pensiamo a noi stessi, pensiamo prima di tutto a raggiungere la salvezza e poi vediamo quello che verrà dopo.